Domenico Marocchi, li ricordiamo come abbiamo già fatto in apertura di puntata, le vittime della strage di Capaci, che sono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la moglie e gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, benvenuto a Claudio Martelli, Giovanni Falcone, una frase, una di quelle che più è rimasta nel nostro cuore che ci riporta alla speranza e alla necessità di combattere la criminalità organizzata mafiosa, di stampo mafioso. Ma certamente che c'è speranza, la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine, piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutta la forza migliore delle istituzioni. Vita e persecuzione di Giovanni Falcone, Martelli fu il ministro della giustizia che lo chiamò al ministero, mi dà un ricordo personale di Giovanni Falcone? Se ne affollano tanti, ma forse quello più che mi è rimasto impresso per tante ragioni ci fu, dopo che io ero ministro della giustizia da una settimana, Falcone non aveva ancora preso ufficialmente l'incarico come era già a Roma, ci fu una sparatoria nell'abitazione in cui stavo, all'esterno, io arrivai poco dopo e la scorta che aveva subito questo attacco aveva già fermato due mafiosi di Alcamo, due fratelli mafiosi. Il giorno dopo venne anche Falcone in visita e spezzerò un po' il luogo, i bossoli nei muri e mi guardò e mi disse, no ma Claudio non è stato un attentato, è stato un avvertimento. Poi forse vedendo la mia faccia un po' delusa, non lo so, mi dice, ma stai tranquillo Claudio e se continui così l'attentato te lo fanno. Perché era un uomo anche di grande eronia. Era molto spiritoso, sì, sì, sì. Aveva questo fondo di scetticismo siciliano, lui che era di cultura un illuminista e che si trovava, non dirato, in conflitto con la Sicilia e i suoi valori, che amava tanto ma sapeva quanto erano contigui con quelli della mafia. Però lui capì da che parte bisognava stare e questo è quello che ha fatto pare differenza. Venerdì abbiamo avuto l'onore di ospitare una lunga intervista con Maria Falcone che si è battuta per tutta la vita per conservare la memoria del fratello e ci ha tra le altre cose detto anche questo, che posto una domanda che io giro anche oggi a Claudio Martelli. La nostra società, i nostri, gli italiani hanno preteso dalle istituzioni una risposta forte e questa l'abbiamo avuto perché questa mobilitazione c'è stata sia a livello delle forze dell'ordine sia a livello della magistratura e abbiamo portato in carcere la maggior parte della mano armata della mafia. Ma, e lo possiamo dire oggi, a 30 anni, quello che ci manca ancora è il conoscere. E gli italiani, più di me forse, vogliono saperlo, chi c'era dietro quello attentato, quale coincidenza di interessi portò a far sì che Giovanni non fosse ucciso a Roma come già aveva preventivato Totorrina, ma fu ucciso a Palermo con quello spettacolare attentato. Abbiamo il diritto di conoscere la verità sulla morte di Giovanni Falcone. Che risposta si è dato lei? E quando, se e quando la conosceremo questa verità? Talvolta le verità storiche arrivano tardi, no? Sì. Proprio perché c'è bisogno di elaborare anche e di maturare quello che è avvenuto, no? Cioè sappiamo più noi sulla Revoluzione Francese che gli uomini della restaurazione. Non c'è dubbio. Ma io penso che due cose sono sicure. La prima è che a uccidere Falcone è stata cosa nostra. Su questo non ci sono ombra di dubbi. Se ci si chiede se è stata solo cosa nostra, se ha avuto complicità, se ha avuto sostegni in qualche modo, o c'è stata una preparazione, beh c'è stato allora anche dell'altro, non c'è stata solo cosa nostra. Basti considerare il fatto che Falcone, che aveva vinto già il maxiprocesso, un risultato storico, per la prima volta si dimostrava che la mafia non era invincibile, tutta la cupola mafiosa condannata a 19 ergastoli e due mila alti duecento anni di carcere inflitti ai gregari. Eppure torna a Palermo, si presenta per ottenere l'incarico di consigliere istruttore, un ruolo che già esercitava di fatto, perché Caponnetto era sull'oro della pensione, e lo aveva affidato a lui come coordinatore. Ebbene il Consiglio Superiore della Magistratura boccia Falcone, anzi lo retrocede. Lo ricorda anche Maria Falcone nel suo libro. Lo priva dell'incarico che aveva già e lo disarma, lo disarma, questo è il punto. Proviamo a immaginare che un generale vinca una battaglia decisiva contro un nemico terrificante e che poi viene disarmato dal suo esercito. C'era anche molta invidia, probabilmente ci ha detto anche Maria Falcone. Non basta l'invidia. Non basta l'invidia, questo sicuramente. A livello politico che cosa dobbiamo scoprire ancora? A livello politico si dovrebbero capire chi erano coloro i quali non volevano che Falcone guidasse quell'ufficio istruzione che era l'avamposto della lotta alla mafia. Chi e perché? Perché non volevano fare la guerra a Cosa Nostra. E c'era una parte della Sicilia che non voleva fare la guerra a Cosa Nostra. Il giorno dell'attentato di Capaci, immagino che lei se lo ricordi molto bene. Ho letto da qualche parte che dice che è il giorno più brutto della sua vita. È così. È stato il giorno più brutto della mia vita. In assoluto il giorno più brutto della mia vita. E devo dire la verità, soltanto una cosa mi ha fatto resistere, e cioè la volontà di rendere quel giorno più brutto della mia vita il più brutto affare che la mafia abbia mai fatto. E così è stato. Grazie Claudio Martelli. Vita e persecuzione di Giovanni Falcone. Grazie a tutti.